Saluto a voi e ben ritrovati nel vecchio mondo, ho deciso di tenere fede alla mia promessa cavallerescamente e di portarvi dunque un nuovo Faction Focus e questa volta andiamo a parlare di una fazione amatissima dai nostri tileani, dai nostri generali del bel paese, una fazione che tra l'altro vanta un sacco di paladini tra le nostre fila, perché è usata benissimo dal mitico Berlioz, padre nobile del multiplayer italiano che ha uno splendido canale che secondo me già conoscete, ma che io in ogni caso vi lascio il link in descrizione ed è usata anche da un sacco di membri dei vari clan, tra gli LP ci sono ad esempio Drago Rosso, c'è il mitico Elagost, tra i CLL c'è il buon Sermifitis, detto anche Sermetis che la usa molto 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 bene e poi ovviamente c'è il buon Barkmap, il potentissimo giocatore tileano del clan di BD che ha scorrazzato con questa fazione in lungo e in largo provocando un sacco di mal di testa ai suoi nemici, ovviamente stiamo parlando della amatissima Bretogna, la più cavalleresca delle fazioni di Warhammer, la più cavalleresca si fa per dire perché comunque è un mondo feudale dove dei panettiere arricchiti tiranneggiano su orde di popolani, ma che comunque va a pizzicare un pochettino le nostre corde più fantasy, proprio più old style, qua si ritorna al ciclo alturiano, si ritorna all'epica del passato, quindi una fazione che sicuramente porta un sacco di belle immagini, un sacco di bei sentimenti, un sacco di bei ricordi sul mondo di Warhammer e che tra l'altro è anche una fazione divenuta recentemente potentissima. Adesso vedremo perché, perché è sempre stata una fazione considerata mediamente forte, non eccezionale, eppure a partire da qualche tempo a questa parte c'è stata una pace che ha cambiato un elemento specifico del gioco e che ha reso Bretogna mostruosamente potente. Allora, di cosa stiamo andando a parlare? Quando parliamo di Bretogna, quando immaginiamo diciamo il mondo di Bretogna, ci figuriamo una cosa del genere, quindi delle tonanti cariche di cavallerie che travolgono, distruggono, attraversano le file nemiche come se fossero fatte di burro e che vanno, lancio in resta, a schiantarsi direttamente nel cuore del nemico, possibilmente terminando lo scontro con un bellissimo duello tra generali, ovviamente col paladino bretoniano bevuto dalla belle indizione della trama che poi distrugge il nemico. E questo è bene ricordarlo perché il gioco di Total War Warhammer è estremamente attinente alla lore originale, quindi al mondo creato dalla Games Workshop, e Bretogna continua a comportarsi sul campo di battaglia come la Games Workshop ha descritto questa bellissima fazione. Quindi avete ancora esattamente questa relazione tra i potenti cavalieri bretoniani e questa misteriosa figura divina, la Dama del Lago, e questa Dama del Lago continuerà a darvi dei benefici, continuerà a darmi dei bonus, fin tanto che la vostra condotta sul campo di battaglia è cavalleresca. Ma quello che è bizzarro è che la fazione della Bretogna è usata diversamente, molto diversamente, dal single player al multiplayer. Se, come voi avete già seguito forse gli altri Faction Focus, ormai dovreste sapere che questa guida si rivolge un pochettino di più alle battaglie PvP, giocatore contro giocatore, ma che comunque ci sono dei consigli che vi possono essere utili anche per le vostre avventure nel vecchio o nel nuovo mondo. Allora, qual è la grossa, grossa differenza? Che in campagna si tende ad abbandonare la non performantissima fanteria di Bretonnia per puntare invece tutto, tutto, tutto su queste potenti armate di cavalieri, di paladini corazzati. Invece Bretonnia non è pensata per avere una cavalleria completamente indipendente, è questo proprio il punto principale, cioè come nella lore la fazione è in fondo, nonostante i cavalieri, i paladini tiranneggino un pochettino sui loro bifolchi popolani, però è la sinergia tra questi due elementi, è la sinergia tra una cavalleria pazzesca, bellissima, fortissima, eroicissima e invece file su file, ranghi su ranghi di popolani, ranghi su ranghi di contadini. Adesso questa stessa meccanica la dovete tenere presente quando giocate Bretonnia. Io di solito inizio un pochettino questi faction focus partendo proprio dagli eroi, dai lord, quindi facendomi vedere come si costruisce un esercito a partire dal generale che voi volete portare sul campo di battaglia. L'idea è sempre la stessa, cioè voi avete un'idea di gioco in testa e iniziate a scegliere quale comandante, quale condottiero può assicurarvi la vittoria a partire da questa idea di gioco. Però nel caso di Bretonnia è forse più saggio partire proprio dalla base della piramide sociale, quindi dal terzo stato, quell'orda di contadini, artigiani, borghesi, bifolcaria varia che costituisce i ranghi, il nucleo, l'ossatura dell'armata di Bretonnia. Sono delle fanterie estremamente poco costose, vedete che avete dei contadini con solo 100 petechioni d'oro di costo e la vostra miglior truppa, reggimenti della fama esclusi, sono degli scudieri che costano soltanto 700 petechioni d'oro. Allora, in generale non sono delle fanterie che riusciranno mai a vincere uno scontro contro un nemico, cioè sono tra le fanterie più deboli in termini di caratteristiche del gioco, ma sono estremamente cost effective. Come le volete usare? Partiamo dalla base, partiamo dall'accoppiata diciamo contadini armigili. Allora i contadini sono delle specie di zombie che però allo stesso tempo, qua mannaggia qualcuno ma scritto su Discord, sono delle specie di zombie che però sono vivi, quindi hanno un bel po' di punti vita e soprattutto col fatto che non si sgretolano e fuggono possono tornare sul campo di battaglia più volte. Questo è un grosso vantaggio. Gli zombie sono bellissimi perché bloccano il nemico, non andranno ma in rotta, saranno lì tutto il tempo e va bene è un vantaggio, ma vi impone un gioco un po' meno dinamico. Invece i lordi di contadini continueranno a caricare e a ritirarsi, caricare e a ritirarsi, tornando in battaglia più e più volte e per molti versi risultano estremamente fastidiosi e estremamente difficili da togliere. Allora sono degli scudi di carne e che sono anche expendable, quindi sono sacrificabili, potete sostanzialmente farli distruggere senza impattare sul morale delle truppe vicine e questo è proprio il loro ruolo. Loro assorbono le cariche dell'avversario. Visto che stiamo comunque parlando di uomini, anche i vostri migliori cavalieri non è che siano poi estremamente difensivi, estremamente capaci di assorbire l'urto, è comunque Bretonnia, non ha la tecnologia imperiale, quindi anche le armature sono un pochettino più fragili rispetto alla controparte sigmarita, diciamo. E allora qua entrano davvero in gioco le orde di contadini. Costano pochissimo, ne potete mettere tante, possono avvolgere il nemico, quindi a un certo punto il nemico si troverà a dover difendere tiratori o artiglierie, tutte le cose che sono utili contro i cavalieri, si ritroverà delle orde di contadini, inferociti, cazza, pecor, falcone che invece stanno dando fastidio lì. Attenzione, non vi aspettate comunque delle grandi uccisioni, dei grandi danni, ma sono unità fastidiose. L'idea della Bretonnia è sempre quella, se l'avversario non sta usando delle energie, l'attenzione o delle risorse per colpire i cavalieri, ma le sta usando per togliersi altri elementi dalle balle, allora i vostri cavalieri hanno il terreno libero, hanno tutta la mobilità, la potenza d'urto, la forza per andare a fare i danni dove serve. Questa è l'idea di base che dovete mettervi in testa quando giocate Bretonnia. Dovete dare tempo ai vostri cavalieri di fare quello che fanno fare bene. Fortunatamente i cavalieri sono potenti nell'urto, quindi non ci vorrà tantissimo, però tutte le distrazioni, ogni singolo colpo che non si schianta su un cavaliere, ma che colpisce un contadino, per voi è un enorme vantaggio. E subito dopo i contadini, diciamo, abbiamo invece gli uomini d'arme, che possono arrivare nella versione lancia oppure spada, con scudo o senza scudo. Con scudo un pochettino più forti, con delle caratteristiche leggermente più alte, ma anche un pochettino più costosi. Come vedete, sono delle truppe dotate tutte di bassa disciplina, scarsa armatura, poche caratteristiche di combattimento, sono ad esempio inferiori alla controparte imperiale, però sono molto 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 più cost effettivi in tantissimi casi, perché costano talmente poco che anche una semplice linea bella cicciottella, diciamo, bella forte di armigiri, di contadini, non vi costa assolutamente nulla in termini d'oro. Avete ancora un sacco di truppe da mettere, ancora un sacco di punti da investire nelle vostre cavallerie, nei vostri lordi, nei vostri eroi, quindi è davvero una massa umana che va avanti e voi dovete immaginarla e dovete giocarla a strati successivi, quindi il primo sconto di contadini, poi si passa agli armigiri che dopo un po' andranno in rotta a loro volta, poi magari altri armigiri o forse i contadini sono tornati, questa era la meccanica della marea bretoniana, se volete, proprio il respiro delle infrastrutture sociali di Bretonnia, sorge un'arma proletaria su Bretonnia. Quindi avete questi ranghi su ranghi su ranghi di guerrieri che saranno estremamente appiccicose al nemico, molte fazioni hanno difficoltà a passare questi ranghi, ad esempio i dark elf, gli elfi oscuri in generale gli elfi hanno difficoltà a passare i ranghi di Bretonnia perché anche gli elfi alti, ad esempio, possono schierare delle lance fantastiche, possono schierare dei lanceri che costano molto poco e che sono molto efficaci, ma persino la potente guardia argentina non ha un attacco elevatissimo, quindi contro l'afanteria è comunque un investimento gigantesco, stiamo parlando di truppe che costano almeno 500 o 850 pettecchioni d'oro e che combatteranno a lungo contro le vostre truppe di Bretoniani. Altra grande cosa è che tutte le truppe di lancio del gioco hanno almeno difesa contro le cariche dei bersagli grandi, ma questa abilità non può essere sfruttata se la truppa è già impegnata in corpo a corpo. Quindi cosa succede? Che voi avete impegnato un'unità di contadini contro i lanceri del nemico e poi potete caricare coi vostri cavalieri sfruttando al massimo la velocità, al massimo il bonus di carica, travolgendo il nemico. Questo è un vantaggio impagabile che vale molto più di 100 pettecchioni d'oro che avete investito nella linea di contadini. Rimane la meccanica un pochettino diciamo martello in codine, quindi potete provare dei piccoli controattacchi di fanteria. Avete intanto i alabardieri che in campagna hanno un pochettino più senso ma i multiplayer diventano costosetti, non guadagnate tantissimo e hanno comunque poca armatura e poca disciplina, quindi vi conviene quasi sempre andare più sull'economico possibile. Però avete il reliquiale del Graal che costa quasi quanto un'unità di alabardieri e che vi dà un bel bonus alla fanteria, la rende in buona la psicologia e gli dà più disciplina e poi se volete il contrattacco avete i pellegrini guerrieri e soprattutto gli scudieri. Adesso i pellegrini guerrieri sono una specie di flagellanti, non sono irriducibili, hanno furia, delle buone caratteristiche di attacco e hanno soprattutto un bello scudo di bronzo, quindi in certe situazioni, in certi assanti potrebbero dare una mano a sfondare le truppe di fanteria, ma stiamo parlando sempre di cose con pochi danni penetranti, quindi più adatte a pulire la fanteria leggera. Invece avete anche i simpatici scudieri, allora questa dovrebbe essere la vostra elite di fanteria che come elite di fanteria non può stare alla pari di tutte le altre fanterie d'elite e questo in realtà non è un problema, anzi è uno dei punti di forza di queste unità perché costa estremamente poco, tutte le altre fazioni avranno fatica a distruggere gli scudieri, dovranno mettere delle unità più costose di questi scudieri perché comunque ci arrivano con della buona armatura, delle caratteristiche basse ma si portano dietro il bonus contro la fanteria, quindi risulteranno estremamente efficaci nel pulire le fanterie di medio-basso livello subendo relativamente pochi danni a loro volta e il nemico dovrà impegnare delle fanterie più costose, più potenti oppure sparare, usare magie per togliersi dalle scatole e di nuovo sono tutte energie, sono tutti investimenti che il nemico deve mettere contro la vostra fanteria lasciando libero invece il campo alla cavalleria, avete poi due unità di reggimento della fama sul comparto fanteria che sono i guardiani sacri della Maison Tal e poi ovviamente gli ucciditori di bestie di bastone, adesso questi sono dei pellegrini guerrieri potenziati, perdono lo scudo ma ci guadagnano in capacità offensive con danni magici e da fuoco e invece li ammazza bestie, invece sono degli scudieri che hanno abbandonato le spade per prendere la labarde, quindi diventano una buona unità difensiva con resistenza alle cariche e specificata, pensata per distruggere i bersagli grandi con l'armatura, quindi un pochettino più difensivo, un pochettino più situazionale, ma quando si parla a questo punto di bifolchi, questi sono i ranghi base, proprio il proletariato di più infima categoria se volete, ma poi ci sono anche quelli che invece sono un pochettino studiati. Allora dovete sempre ricordarvi che i cavalieri bretoniani non hanno una grande opinione dei loro sudditi, quindi tutta questa massa di uomini per i cavalieri bretoniani, per un vero paladino è semplicemente un supporto sul campo di battaglia o alla peggio qualcuno che bisogna proteggere e aiutare perché non se la sa cavare da solo. In realtà gli arcieri bretoniani sono l'origine, il motivo per cui Bretagna è una fazione così potente. Allora vediamo perché. Intanto avete pochissima artiglieria e soltanto tre unità di fanteria da tiro. Per quanto riguarda l'artiglieria, avete di nuovo la stessa logica di costo-efficienza, quindi non sono delle artiglierie particolarmente spaventose, non sono precise come i cannoni imperiali o come le balliste elfi che non fanno i danni massicci di certi pezzi di artiglieria come cannoni infernali, tempeste di razzi o altre cose ad esempio che possono mettere in campo i nani, ma sono molto 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 cheap. Peraltro il trabucco da campo benedetto non fa neanche fuoco amico, quindi di nuovo sono tutte unità che voi potete portare abbastanza in massa e usare per fare danni nel tempo costanti un colpo dopo l'altro, riuscendo in qualche maniera alla fine anche ampiamente ripagarsi perché il nemico dovrà gestirle, quindi se ha delle balliste dovrà sparare su questi pezzi ignorando la cavalleria, se ha dei cannoni dovrà rivolgere qualche colpo su questi pezzi ignorando la cavalleria e se invece vuole lasciarvi incontro, vuole fare una formazione compatta della barde e non ha risposte contro questi pezzi, ecco allora che portarsi un trabucco o due sul campo di battaglia vi garantisce un elemento costante di minaccia sull'avversario, estremamente costo efficiente, non molto preciso quindi non aspettatevi di usarlo sempre ma può essere sicuramente una bella rottura di scatole e per quanto invece riguarda gli arcieri bretoniani, questi sono in pieno stile longbow gallesi il vero punto di forza della fazione, allora è paradossale perché non sono apparentemente dei grandissimi guerrieri, vedete le caratteristiche sono basse, la morale è praticamente nulla, è quasi completamente assente, però sono un'unità che costa pochissimo, costa meno delle altre unità da tiro di altre fazioni che abbiano un range paragonabile, hanno comunque una bellissima gittata di 160 con 20 di forza all'arma, di forza proiettili fino a 24 la parte invece la versione con le frecce infuocate, quindi già questi basterebbero a rendere interessanti, potete tenere più o meno botta, tenere più o meno testa gli arcieri ad esempio elfi, su cosa vorranno sparare gli elfi? Su dei poveri arcieri bretoniani che costano solo 400 petechioni d'oro o sulla cavalleria? Perché se sparano sulla cavalleria questi arcieri continueranno a fare danni, quindi pian pianino salva dopo salva potrebbero danneggiare anche delle potenti sorelle dell'Averlorn, ma se sparano invece sui pesanti, sui pesanti bowmen, sui contadini con arco, allora, sugli arcieri popolani scusate, allora saranno i cavalieri ad avere tutta la vita sana e a poter fare quello che vogliono, ma soprattutto quello che ha reso veramente, veramente potente Bretogna sono loro, gli arcieri popolani con le frecce avvelenate, questo è il punto principale diciamo di questo faction focus, allora come è cambiata la meccanica del veleno, il veleno dà sempre la stessa penalità, quindi un'unità avvelenata combatterà meno bene, nel senso che avrà il meno 20% di danni, forze dell'arma, danni base e meno 20% dei danni penetranti, sarà rallentata del 24%, quindi quasi un quarto e se un'unità di tiratori avrà anche una penalità alla forza proiettile, sempre 20% sia ai danni basi che ai danni penetranti. Adesso il fuoco amico funziona ancora, nel senso che se voi sparate con i vostri arcieri bretoniani su delle unità impegnate in corpo a corpo, le frecce che colpiranno i vostri stessi soldati faranno un po' di danni sui punti vita, ma quello che non si applica più è il veleno alle vostre stesse unità, quindi voi potete sparare sulla mischia ma avvelenare soltanto il nemico, danni saranno magari equiomente distribuiti a seconda di qual è la vostra linea di tiro, ma basta anche che una sola freccina caschi sulla unità nemica per avvelenarla interamente. Ed ecco che questo vi dà un vantaggio devastante in tutti gli scontri, perché le cose che il nemico schiererà saranno più lente, quindi più difficili da manovrare, meno capaci di combattere i vostri cavalieri, avranno meno danni penetranti, meno danni base, ed ha un vantaggio gigantesco di una fazione che è già molto molto potente con l'alpha strike, quindi voi avete sostanzialmente degli arcieri contadini che avvelenano tutto ciò che c'è dall'altra parte, possono contrastare dei tiratori, possono contrastare delle artiglierie se arriva una gittata, possono soprattutto tenere distanti tutte le unità di schermaglia, hanno un buonissimo range, una discreta precisione, e ovviamente la cavalleria pesante è vulnerabile a quegli schermagliatori veloci con danni penetranti, ma ecco che con un paio di contadini voi potete semplicemente stare al sicuro, mentre i ragazzoni qua scatenano una salva di frecce dopo l'altra e proteggono così i vostri cavalieri. Avete dei contadini che assorbiranno letteralmente la carica al posto dei cavalieri, quindi nemici che vogliono buttarsi in avanti si schianteranno prima sui ranghi dei contadini e saranno poi pronti a essere caricati, controcaricate le vostre cavalierie che quindi potranno beneficiare di tutto il bonus di carica possibile e non subiranno quello del nemico, e poi avete ranghi su ranghi di armigeri che difendono tutto questo schieramento centrale che vengono mandati ad onde alte successive sul nemico. Tutto questo per una miseria di punti, vedete che io ho già messo un sacco di unità, mi manca ancora il lord degli eroi e comunque i cavalieri e mi mancano ancora 8700 pentecchioni d'oro da spendere, quindi è facilissimo con Bretonnia fare uno stack, un esercito da 20 stack, un esercito completamente pieno, pieno, pieno di uomini, numerosissimo. Per finire la parte invece dei, diciamo dei Pisan, come cavolo lo spieghiamo, dei popolani, vi ricordo che avete anche l'Iromen a cavallo, questi sono un po' più la controparte borghese, se volete, del mondo non nobile, non feudale di Bretonnia, quindi avete quelli con lancio e scudo, di nuovo non molto potenti, non molto coraggiosi, ma velocissimi e tutto sommato, come al solito, al nemico si richiede un investimento superiore per andare a togliersi dalle scatole, possono essere una simpatica picca in certe occasioni e poi avete invece i contadini, gli arcieri su cavallo, loro di nuovo non sono assolutamente male rispetto ad altre unità, può darsi di cavalleria leggera, di schermagliatori, non sono forse più efficaci, però di nuovo hanno una buona gittata, costano molto poco, quindi nella maggior parte dei casi potete utilizzarli per schermagliare, contro schermagliare, distruggere, allontanare gli schermagliatori del nemico e preservare in questo modo le vostre energie sulla cavalleria, avete anche la versione potenziata con i danni da veleno. A questo punto diciamo che avete l'ossatura del vostro esercito, ma dovete ancora capire come scatenare davvero i danni, cioè come andare a distruggere, a fare, a colpire, a uccidere là dove farà più male al vostro nemico e qua entrano tutti i cavalieri. Allora la cavalleria di Bretonnia nella Lore è un sistema gerarchico per cui i più giovani, quelli con meno esperienza iniziano spesso come cavalieri erranti, cercano avventure, migliorano sul campo di battaglia, fanno esperienza, chi sopravvive può entrare al servizio del regno di un signore feudale, questo già costituisce la maggior parte della vostra cavalleria e poi c'è tutta l'idea, c'è tutto il filone della ricerca del Graal. Perché? Perché i cavalieri bretoniani hanno giurato fedeltà a questa oscura divinità che si chiama la Dama del Lago, che è rappresentata in gioco dalla sua profetessa, la fata incantatrice, e molti di loro, i più ardimentosi, si impegnano nella ricerca di questo sacro oggetto, quindi dovranno compiere una serie di sfide per ottenere la benedizione della Dama e chi riesce a ottenerla non solo diventa un guerriero potentissimo, ma è anche rappresentato come l'epitome del codice cavalleresco bretoniano, quindi stiamo parlando dell'élite di una certa élite, dei guerrieri decisamente spaventosi. Allora, avete delle buone cavallerie sia da urto che da combattimento prolungato e avete anche dei supporti volanti. Io partirei subito dai supporti volanti che sono un pochino quelli più facili e veloci da descrivere. Sono dei cavalieri su Pegaso, dei cavalieri reali su Pegaso che sono la versione potenziata con danni magici, entrambi hanno danni penetranti e diciamo che condividono più o meno la stessa meccanica, quindi sono tutte e due unità da urto, da carica, devono sfruttare la loro incredibile velocità di 105, devono sfruttare il loro incredibile bonus di 65 per poi usare. Intanto, allora, in generale qua vi dicono anti-large, contro i bersagli grandi, però quando parliamo di unità che hanno così tanto bonus di carica vanno bene contro tutto. Certo, il bersaglio grande, qua il bonus contro i bersagli grandi, unito a una elevatissima forza dell'arma, attenzione, relativamente a pochi danni penetranti, significa che sono pensati apposta per dominare i cieli, quindi costringere i draghi ad atterrare o a fuggire, andare a dare la caccia grossi mostri, però non ignorate comunque l'impatto che possono avere anche sulle fanterie. La versione ovviamente dei pegasi reali è quella potenziata, quindi vedete che ha vigore perfetto, quindi non si stanca mai, questa è una cosa che caratterizza le migliori unità di Cavaliere di Bretogna e vi garantisce una tenuta eccezionale, queste unità saranno sempre comunque efficaci in ogni fase della battaglia, dall'inizio alla fine, senza perdere nessuna caratteristica. Hanno persino avanguardia come anche i pegasi normali, quindi un attacco velocissimo fin da subito, se volete, sono immuni a psicologia e poi introduciamo subito la benedizione della dama. Finché queste unità non fuggono sul campo di battaglia, quindi finché si comportano in maniera cavalleresca, allora hanno un 20% di resistenza fisica, che le rende molto, molto, molto più difficili da distruggere abbinate a un'armatura discretamente alta. Significa che l'avversario spesso dovrà portarsi un po' di danni magici, certo soffrirete comunque cose come prosciuga spirito o altro, però le normali lanci, le normali labarde, le normali picche, i normali tiratori faticheranno molto e visto che le, soprattutto le cavallerie con danni magici nel gioco sono abbastanza poche, allora avrete generamente un vantaggio devastante nel confronto di cavalleria. Avete poi anche gli ipogrifi, i cavalieri reali su ipogrifo, che sono, se volete, la versione ancora più potenziata, ma fate attenzione perché sono già truppe relativamente fragili e non molto numerose. La versione su ipogrifo è molto molto fragile e non è assolutamente numerosa, quindi sarà molto facile per l'avversario distruggerla, isolarla, colpirla e farla a pezzi. Sono un pochettino più lenti dei pegasi, hanno un pochettino più di armatura, ma perdono lo scudo che invece hanno i pegasi, ci guadagnano delle buone caratteristiche, ci guadagnano i danni penetranti, fanno terrore, però non si vedono moltissimo perché in molti casi l'avversario avrà modo di isolarli, bloccarli, aprire fuoco su di loro e otteneranno dei danni devastanti. Oltretutto o sfruttano il terrore per vincere velocemente il combattimento o se queste unità di ipogrifi vengono circondate da dei semplici lanceri con armatura, con resistenza fisica o no, vengono fatte a pezzi velocemente. Passiamo allora a quello che è, diciamo, il comparto più importante, quello che dovrete imparare a gestire meglio sul campo di battaglia che sono le cavallerie. Allora, si parte da delle cavallerie d'urto relativamente poco costose come i cavalieri del Ranti fino ad arrivare ai potenti guerrieri del Graal, quindi i cavalieri e i guardiani, con tre unità molto importanti, molto interessanti sui reggimenti della fama. Allora, partiamo subito dicendovi che dovete ignorare assolutamente questo antifanteria o antibersagli grandi. Tutte le cavallerie sfruttano la stessa meccanica, sono un pochettino più veloci rispetto a cavallerie simili di parità di prezzo di altri popoli, ad esempio sono più veloci delle cavallerie imperiali, ma possono risultare un pochettino più fragili, hanno qualche punto armature in meno. Le cavallerie imperiali poi sono corazzatissime, ma rispetto ad altre razze magari non sono i più corazzati del mondo. Come tutti i cavalieri hanno delle caratteristiche mediamente basse, vedete 32, 26, 26, 26, 38, 30, ci sono delle fanterie che sicuramente combattono meglio, ma i cavalieri possono permettersi queste caratteristiche basse perché sfruttano un incredibile bonus di carica, che è un bonus che si divide sia all'attacco corpo a corpo che alla forza dell'arma, in questi casi i danni sono penetranti, quindi dura 10 secondi e per 10 secondi vi permette di colpire molto molto più forte sul campo di battaglia, sul corpo a corpo. Quindi quello che si fa è quello che noi chiamiamo il cycle charge, cioè il mordi e fuggi, si carica con le cavallerie e ci si ritira. In questo caso allora vanno bene tutte anche quelle che hanno il bonus contro i bersagli grandi, prendete ad esempio i cavalieri del reame che hanno un bonus contro i bersagli grandi, quindi altri cavalieri o mostri, però hanno comunque un bellissimo bonus di carica, delle buone, buon attacco corpo a corpo, buona forza dell'arma, questa unità fa comunque danni anche sulla fanteria. Quindi avete delle unità più da urto, che sono le vostre, praticamente tutte quelle con lancia, quindi avete i cavalieri erranti, la versione del giumento e la fama che si porta dietro furia e lo scudo d'argento, quindi a me piace molto, caratteristiche migliorate ma picchia molto di più. Avete i cavalieri del reame che hanno un po' questo doppio significato contro i bersagli grandi, vi possono dare una mano contro mostri o altre cavallerie, ma non hanno i migliori danni penetranti nel mondo, quindi potrebbero subire un pochettino diciamo quelle cavalerie iper corazzate che girano nel gioco, tra cui quelle imperiali. Avete la versione della fama che praticamente sono dei cavalieri del Graal, hanno caratteristiche simili se non affatto uguali, tra l'altro loro causano paura e incoraggiano gli alleati vicini, quindi sono molto buoni e poi avete l'epitome in assoluto della cavalieria bretoniana d'urto che sono i cavalieri del Graal. Questi sono ancora meglio nonostante le caratteristiche dei cavalieri del cuore di Leone perché si portano dietro immunità alla psicologia, si portano dietro vigore perfetto e si portano dietro soprattutto la benedizione della lama, quindi avete una cavalleria con 78 di bonus di carica che è tantissimo, delle buone caratteristiche da corpo a corpo, una buona armatura, resistenza fisica, buona velocità, vigore perfetto, cioè non lo so, se volete si infilano anche una lancia superi e vi ramazzano la stanza, però in generale questi ragazzi qua costano ma fanno praticamente qualsiasi cosa. Queste cavallerie sono tutte da urto, quindi contro con un bonus o con tribunali grandi o no sono comunque pensate per il morti e fuggi, ma avete anche un altro tipo di cavalleria che è quella da combattimento e se volete sostenuto un pochettino più prolungato. Allora in questo caso il meglio di quello che voi potete scagliare addosso al nemico con una ragionevole idea che questi staranno lì tutto il tempo del mondo sono i guardiani del Graal. Ottime caratteristiche, una difesa 56 su una cavalleria altissima, una mostruosità di armatura, sono santi viventi che hanno trovato il Graal, quindi come al solito vigore perfetto, immunità psicologia e benedizione della lama, della dama. Combinate le due cose, questa unità qua è veramente veramente una rottura di balle da togliersi di torno, però fate attenzione, questo significa attacco un pochettino più modesto, questi sono i classici tank se volete, quindi attacco basso, forza all'arma discreta ma nulla di eccezionale, poco bonus di carica, questi cavalieri devono colpire, mettersi in mezzo alla mischia e a spada e scudo si faranno largo tra orde su orde di fanteria, possibilmente non corazzata perché nonostante la forza dell'arma non sia male, i danni penetranti sono relativamente ridotti. Avete anche due unità di cavalleria, cioè una unità più l'ergimento della fama, che sono i cavalieri della cerca che poi diventano cavalieri, i compagni di Quenelle. I compagni di Quenelle ve lo dico subito, sono la miglior cavalleria del gioco, allora in generale i cavalieri della cerca sono delle unità più offensive che difensivano, più attacco che difesa, non hanno lo scudo con poca armatura e hanno meno bonus di carica, ma nel complesso sono un'unità perfetta per distruggere altre cavallerie, nel senso che hanno dei danni penetranti perché si portano dietro questo spadone a due mani. Quindi potete usarli per caricare le cavallerie avversarie e visto l'alto attacco, il discreto bonus di carico, comunque 41 non è male, visti soprattutto i danni penetranti che spesso non esistono nelle altre cavallerie, nelle controparti a cavallo del nemico, riuscirete ad avere un vantaggio devastante nello scontro cavallerie contro cavallerie. Fate attenzione perché le poche unità come i semigrifoni che hanno attacchi penetranti sono meno numerose della vostra cavalleria, quindi tra i bonus che potete portare sul campo di battaglia, tra cui le cure, tra il fatto che siete numerosi, tra il fatto dei danni penetranti, ottime caratteristiche, già avete un vantaggio mostruoso e in più avete anche i compagni di Quenelle che hanno delle caratteristiche migliori, hanno la benedizione della dama, quindi hanno anche resistenza fisica, immunità alla psicologia, sono anche resistenti al fuoco se volete e hanno il bonus contro i bersagli grandi, bonus piuttosto interessante di 10, quindi faranno un macello di danni a tutto, dai mostri alle cavallerie, queste in effetti sono le cavallerie che vedrete più frequentemente, generalmente la formazione bretoniana porta quasi solo questi 4 simpatici ragazzoni, molto 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 potenti. Allora, ripetiamo un attimino l'esercito, generalmente avrete una prima linea di contadini, avrete poi un po' di armigiri a seguire, avrete almeno i vostri simpatici 4 arcieri bretoniani e vedete che vi rimangono ancora un bel po' di punti per inserire l'orde d'eroe. A questo punto passiamo all'elita, alla guida, alla leadership del vostro esercito e andiamo a vedere un pochettino quali sono gli eroi, i signori di Bretonnia. Allora, tra i signori di Bretonnia avete le due categorie, sia i lord da combattimento sia quelli da magia, avete delle profetesse, delle bestie della vita e del cielo che sono relativamente utili, ogni profetessa può arrivare su cavallo, su cavallo bardato oppure su pegaso che è molto molto veloce, sono i classici maghi inadatti al combattimento ma con tante energie magiche grazie al loro simpatico condotto arcano. Ogni profetessa arriva anche con l'aura della Lady che vi dà più 12% di resistenza magica a tutto ciò che attorno, quindi sinergizza abbastanza bene con i vostri cavalieri, spiriti, lice, magie sono ottime, prosciuga spirito, scusate, altre magie sono ottime per distruggere le cavalerie e poi ovviamente potete scegliere quale sfera della magia portare a seconda di quello che vi conviene di più sul campo di battaglia. Generalmente avete bestie e cielo non tanto per fare danni ma per sostenere, baffare le vostre truppe e la vita invece ovviamente per curare, quindi se andate con delle unità di cavalleria molto potenti la vita è sicuramente una buona cosa e poi avete come oggetti la cosa principale è l'assalto di pietra che è un dischietto bombardamento, ma quando si parla di magia si parla soprattutto della fata incantatrice, ottima, uno dei maghi più potenti del gioco, ovviamente usa la vita con il simpatico condotto arcano ma quello che la rende veramente spaventosa e interessante sono le abilità e gli oggetti, allora tanto avete un oggettino che è il calcio delle pozioni che è un buon bombardamento e fin qua va bene. Avete poi il favore della fata che aumenta per 44 secondi tantissimo l'attacco corpo a corpo delle vostre cavalerie, quindi se siete in dubbio volete aumentare fino a 84 l'attacco corpo a corpo dei vostri cavalieri della cerca, siete sicuri di distruggere la controparte corazzata dell'avversario e poi soprattutto avete la nebbia della dama. Allora quello che l'avversario spesso deve fare per resistere un pochettino al vostro furioso assalto è blobbare, concentrare un sacco di unità contro le vostre stesse cavalerie e questo caso è fantastico, in questo caso la fata incantatrice veramente splende perché non solo abbassa di 5 punti l'attacco corpo a corpo di tutto il nemico, quindi rende molto meno performanti le loro unità, ma in più è una mortis engine, è un danno continuato nel tempo a tutto ciò che è attorno a lei e quindi il nemico non riesce quasi mai a opporre le sue fanterie, le sue cavalerie al vostro assalto e lì fa la forza di Bretonni. Avete sostanzialmente questa devastante alternativa da fronteggiare quando schierate contro i paladini, avete degli arcieri che avvelenano e continuano a fare danni, delle cavalerie difficili da fermare che già in funzione, in collaborazione con gli arcieri risultano potentissime e come se non bastasse sono curati efficacemente da una ottima incantatrice che distrugge le forze dell'avversario drenandole come se fosse una mortis engine. Metteteci un paio di paladini, ovviamente tagliate le magie che non vi interessano, dice che questo è un ottimo kit, metteteci un paio di paladini di cui uno con guardiano quindi aumenta la resistenza fisica della dama e avete ancora peraltro un sacco di punti da utilizzare e questo è l'esercito che vedrete più spesso sul campo di battaglia, diciamo che è la build più meta che potete portare e che io chiamo la fatta incantatrice e i vecchi merletti. Questa build è fortissima, è relativamente prevedibile nel senso che è talmente potente che la vedrete spessissimo, le faccio vedere, sono molto fiero di questa foto, ma funziona contro quasi tutti gli eserciti, quindi siamo in uno di fronte di quei pochi casi in cui diciamo che chi impara a giocare può tranquillamente contare su quest'unico esercito, usare quest'unico esercito costantemente e ottenere comunque dei buoni risultati contro praticamente tutto, dall'impero fino al caos, questa roba funziona. I vostri match migliori saranno contro gli elfi di tutti i tipi, particolarmente favorevoli contro gli elfi oscuri, molto buono di utilizzare contro gli elfi silvani, in quel caso contro i silvani non vi servono i cavalieri della cerca, ma potete andare più tranquillamente con unità da urto che abbiano lo scudo per difendersi dai colpi del nemico e ovviamente diminuite il comparto fanteria per portare ancora più cavalieri, ma contro le altre frazioni diciamo che siete sempre abbastanza a posto, dov'è che soffrite? Soffrite quando l'avversario è abbastanza, li può ignorare tranquillamente diciamo tutte le vostre insidie, quindi soffrite contro gli uomini lucertoli ad esempio che hanno dei mostri potenti, delle ottime fanterie, dell'ottima labarda e quindi possono travolgere le vostre linee, soffrite contro quegli eserciti che possono isolare la vostra cavalleria se perdete il supporto di contadini siete quasi sempre spacciati, soffrite contro la costa che può bombardarvi da distante, ma per il resto avete un ottimo esercito capace di confrontarsi contro quasi tutti e questa lista va bene contro quasi ogni avversario, poi vi ricordo dovete sempre 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 modificare la lista a secondo di chi andate ad affrontare, ma diciamo che questa è una base di partenza solida. Se invece siete un pochettino più orientati sul che bello carico lancio in resta e travolgo il mio nemico, allora vi dico che i lord da combattimento sono buoni, soprattutto uno, gli altri sono abbastanza mediocre. Allora il lord su cavallo bardato, pegaso o ipogrifo non è assolutamente granché, è il classico lord da combattimento ma con caratteristiche non eccezionali e non si porta degli oggetti fantastici. Potreste pensare ad Alberico di Bordelot, che è il signore, uno dei migliori cavalli di Bretagne, anche lui su cavallo, pegaso oppure Tempete, che è il suo ipogrifo personale, Bordelot Alberico ha questa simpatica meccanica che è lo spirito della Tempesta che aumenta la velocità e il bonus di carica tutto ciò che è attorno a lui, quindi potete pensare a qualche sinergia volante o a terra, è uno dei personaggi più veloci del gioco e vabbè oltre a delle varie abilità che lo aiutano a combattere un pochettino si porta dietro due oggettini. L'ira di Manane il suo tridente e fa questo bello attacco a vento che discoraggia il nemico, cioè lo rende un pochettino meno disciplinato per 10 secondi e fa dei discreti danni alle unità di fanteria, ma poi è interessante questo Braid of Bordelot, un oggettino che aumenta la leadership e la disciplina ma soprattutto il bonus contro i bersagli grandi di tutto ciò che è attorno a lui, quindi potete pensare di dare, visto che le vostre unità di cavalleria col bonus contro i bersagli grandi non hanno i danni penetranti, potreste pensare a utilizzare Alberico per aumentare la capacità dei vostri danni penetranti, quindi di scudieri oppure di cavalieri della cerca, per distruggere le unità più grandi, più corazzate del nemico, questo può essere una buona cosa, però attenzione perché Alberico è fragilino quindi vi servirà poi una maga della vita. Avete alla fine il Repance dell'Ionesse che è invece un bel eroe di supporto molto molto economico, un discreto combattente un pochettino più difensivo se volete e senza scudo quindi occhio al tiro nemico, la potete mettere a piedi oppure sul suo cavallo da battaglia e lei si porta dietro dei belli oggetti che hanno delle belle sinergie molto economiche quindi hanno delle belle sinergie per gli assalti di cavalleria. Avete in particolare la sua Spadona di Lioness che le aumenta di tantissimo l'attacco e la forza dell'arma, quindi per 24 secondi è davvero una che picchia come una forse nata. Avete poi il lo standard del Fiordaliso che aumenta di nuovo l'attacco e la difesa delle truppe vicino quindi nuovo assalto di cavalleria e poi alla fine avete anche questa simpatica esplosione che fa dei discreti danni e soprattutto abbassa in maniera devastante l'attacco e la difesa del nemico. Quindi qua si parla di un assalto di cavalleria guidato dalla simpatica Repance dell'Ionesse e che può essere poi migliorato ancora magari o con una dammigella della vita oppure con altre dammigelle che migliorino le caratteristiche corpo a corpo della vostra Death Star, della vostra punta di lancia. E per finire avete il buon re Pantofoluen in persona, il cuor di leone che ci arriva con il cavallo bardato, il pegaso, l'ippogrifo normale o addirittura Beachis che ha il suo ippogrifo particolare, diciamo speciale, ed è un guerriero spaventoso, velocissimo, disciplinato, coraggioso, corazzato, forte, si porta dietro un sacco di cose incredibili e soprattutto ha questa campione della Lady, quindi si rigenera da solo. Non avete bisogno di una maga, di una curatrice per tenere su il vostro simpatico lune e questo significa che può fare delle belle sinergie con il cielo per di nuovo abbassare il cielo, abbassa o migliora tantissimo le caratteristiche corpo a corpo, quindi potete preparare l'Alpha Strike con colpo devastante al cuore del nemico. Il buon Luen è un ottimo combattente di suo, con danni penetranti si porta la spada di corone che abbassa l'armatura e la difesa del nemico, 24 la difesa 30 l'armatura, si porta poi dietro anche lo scudo del cuore del leone che aumenta la resistenza magica al tiro, quindi lo rende molto più difficile da abbattere e di base lui ha anche ovviamente la belledizione della Lady, quindi ha comunque il 20% dell'esistenza fisica. Allora perché ho parlato di Alpha Strike? Perché generalmente si può portare una dammigella, si potete portare dammigella ovviamente delle bestie della vita o del cielo, le bestie sono sempre utili per evocare manticore varie, hanno tutte la simpatica aura della Lady per aumentare la resistenza magica. La dammigella delle bestie si può portare ovviamente la sua simpatica manticora ma ha degli bei potenziamenti, quindi pallicce impenetrabili di pelle per aumentare ancora la resistenza fisica oppure semplicemente forma feroce di Wissan potenziata per aumentare l'armatura e il danno di base, oppure andate invece per debuffare il nemico, quindi ad esempio avete Re Luen che si porta dietro la spada di corone per abbassare armatura e difesa corpo a corpo e vi portate una dammigella del cielo che può o aumentare però di una sola unità alla volta 24 di attacco corpo a corpo oppure debuffare ad area ancora togliere meno 30 di armatura meno 24 di attacco corpo a corpo, quindi capite che tenere la cavalleria bretoniana con le armature così ribassate, i danni penetranti, Re Luen, tutti questi debuff diventa davvero davvero devastante. Oltretutto il cielo, ve lo dico sempre se voleste cercare l'attacco aereo ha questa simpatica, ogni volta che lancia la magia rallenta le unità volanti del 24% e gli abbassa la disciplina corpo a corpo, quindi visto che avete dei paladini molto molto potenti che si portano dietro anche un bonus contro i boss agli grandi, avete quasi sempre il totale e assoluto controllo del cielo. I paladini sono l'altro eroe chiave di questo esercito, più che altro perché si porta dietro l'abilità guardiano, quindi che voi vogliate assaltare i cieli con Re Luen e un paladino oppure che voi vogliate stare a terra, vi dà quel 15% di resistenza fisica che è assolutamente impagabile, tenete conto che Re Luen già ne ha 20, arrivate a 35 è facile ed è molto molto difficile battere questa combinazione. Avete poi i simpatici Gotrek e Felix che sono sempre abbastanza utili, una classico è l'assalto di fanteria di Footlord, se volete chiamarlo così, con la fata incantatrice e i due amici qua a guidare l'assalto, può funzionare bene contro i nani, può funzionare bene in un sacco di occasioni, un modo un po' bizzarro che potrebbe cogliere alla sprovvista il vostro nemico, ma molto molto funzionale e poi alla fine avete il Cavaliere Verde che di nuovo è una cosa molto interessante, è una unità eterea quindi con alta resistenza fisica ma anche la capacità di rigenerarsi, quindi ha Guardiano Sacro per la Rigenerazione, l'alta resistenza fisica del 55%, più la benedizione della Dama arriva al 75%, metteteci un Paladino ed ha praticamente il 90% di resistenza fisica, causa terrore, paura, incoraggia, ha l'avanguardia, è velocissimo, è potentissimo, danni penetranti e tutto, attenzione perché comunque è un'unità eterea senza ramatura, quindi i danni magici li faranno un sacco di male, però potrebbe essere un'aggiunta carina. Questo appunto era la guida, la faction focus sulla bellissima Bretagna, mi si è un po' impallato il gioco, era il faction focus sulla bellissima Bretagna, se avete dei consigli chiedete tutto quello che volete, raggiungeteci su disco dove potete appunto trovare dei giocatori di Bretagna molto più competenti di me, molto più abili di me con questa fazione che vi daranno sicuramente un sacco di consigli, Parkmap, Berlio, Zeylagos, Drago Rosso, Sermetis sono tutti a vostra disposizione, li obbligo io in effetti, quindi spero di vedervi su Discord, trovate i link per unirvi a noi in descrizione al video, buona caccia sui campi di battaglia, guidate alla vittoria le vostre orgogliose schiere di cavalerie e torneremo a vederci molto presto sui prossimi campi di battaglia del vecchio oppure del nuovo mondo.